Stanno per cambiare le regole per il commercio sulle aree pubbliche a Siracusa. Un nuovo regolamento sostituirà il precedente che risale al 2011 e cambierà alcuni aspetti formali e sostanziali dell'attività del commercio ambulante nel capoluogo a Rettuseo. Dovrà però passare ancora all'esame della Commissione e del Consiglio Comunale prima di divenire esecutivo. Con le nuove norme si snelliranno infatti le pratiche e le lunghe procedure burocratiche previste. Se la previsione sarà confermata, i commercianti avranno il solo compito di presentare la scia, la comunicazione di inizio attività, in maniera telematica senza dover insomma attendere alcun riscontro dagli uffici. Abbiamo adeguato la nostra città alle normative vigenti, sottolinea il vice sindaco di Siracusa e di Bandiera. Se prima, per poter operare, era necessario fare richiesta cartacea ed attendere risposta, adesso tutto questo diventa una semplice comunicazione telematica. Un notevole passo avanti, aggiunge Bandiera, ed un passaggio dovuto. Tra le regole in vigore, il divieto di posizionare le proprie postazioni in alcune aree di particolare pregio della città, quelle limitrofe ai monumenti archeologici e ai luoghi di interesse artistico-storico-culturale in tutta Ortigia. Niente ambulanti poi in diversi punti della città, dettagliati nella disposizione comunale, specificando che il comune di Siracusa può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi nei mercati.